E allora chiedo ai nostri relatori di darci un giudizio su questo strumento del piano strategico dal punto di vista di un politico e di un economista, mettendone in luce sia i punti di forza ma anche le ombre, le difficoltà, quello che non è andato e come questo modello ci permette di governare la città e di esprimere anche l'idea di sussidiarietà circolare così tanto cara al professor Zamagni. Ecco, il nostro primo relatore non ha bisogno di presentazioni, vi dirò solo che appunto è conosciuto in tutto il mondo per la sua attività di ricerca accademica e culturale, ha ricoperto tantissimi incarichi, è stato tra i padri delle riforme più importanti dell'economia e del sociale nel nostro paese e attualmente è presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Come ha detto Paola, è uno dei padri del piano strategico, non abita a Rimini, però la ama, la conosce molto bene e quindi chiedo a lui di inaugurare questo primo giro di interventi. Grazie di essere qui. Bene, grazie molto e buonasera a tutti. Sono veramente lieto di essere con voi in questa occasione e quindi lasciate che esprima gratitudine agli amici che mi hanno invitato la prima telefonata del sindaco Gnassi e poi la presidente del centro culturale Paolo VI. Un invito che ho accolto con piacere perché l'argomento che qui è stato scelto è particolarmente, come cercherò di argomentare tra breve, centrale e ancora una volta posso dire che almeno in questa terra di Emilia-Romagna, che è la regione che ci ospita, devo dire che Rimini è all'avanguardia. Se non altro per la spinta propulsiva, anche se poi non sempre le realizzazioni corrispondono alle aspettative. E allora rispondo alla domanda della nostra moderatrice prendendo le mosse da questa considerazione. Quella che viviamo oggi è nota come seconda globalizzazione, che è cominciata circa un quarto di secolo fa. E c'è una differenza tra la prima e la seconda. Durante la fase della prima globalizzazione, che di fatto termina verso la fine del secolo scorso, l'unità centrale era il livello nazionale, cioè lo Stato. La caratteristica della seconda globalizzazione nella quale siamo entrati, dicevo, da oltre un ventennio, è invece la rinascita e della centralità della città. Di questo ancora molti non se ne sono resi a conto. Cioè sono le città gli attori principali di progetti sia di sviluppo locale, il che è ovvio, ma anche in generale dei progetti di trasformazione. Questo ovviamente pone un problema, perché in Italia non si riesce a far capire alla classe dirigente nazionale questo concetto. Perché le città in Italia sono ancora maltrattate, non poco trattate, ma maltrattate in tutti i sensi. La stessa regione, che quando nacque l'istituzione regione, nacque con l'idea di fungere da coordinatrice dei progetti di sviluppo locale delle città che in quella regione stavano, ha finito per riprendere, io parlo adesso in generale, poi ci sono alcune regioni più saggie di altre, ma faccio un discorso generale, ha finito col cadere nell'errore di quel centralismo, che non è più un centralismo nazionale, è un centralismo regionale, ma è sempre centralismo. E questo ha sottratto energia e fiato alle città. Questo è un punto di cui non possiamo non fare parole, soprattutto in questo momento storico. Perché io adesso, a meno che poi nelle domande, se ci saranno, sarò lieto di dare ad esse risposte, ma pensate soltanto alle risorse, il sistema fiscale, che penalizza potentemente le città, in una maniera ignobile, che non ha nessuna razionalità economica. Non c'è una ragione di tipo economico che possa giustificare il modo in cui le città devono avere accesso alle risorse finanziarie di cui hanno necessità per sviluppare i propri piani e così via. Ecco allora qual è il punto. Che nonostante quanto ho detto, quando avvio alcuni anni fa del piano strategico, che fu un'idea vincente, voi sapete che poi altre città, sull'esempio di Rimini, hanno seguito la stessa, direi, la stessa scia, la stessa metodologia, eccetera, è riuscita a puntare, e questa è l'idea centrale del piano strategico, sulla città creativa. Cioè dire, le ormai attività produttive ad alto contenuto cognitivo sono tutte realtà cittadine. Perché? Perché è a livello di città che si realizzano quelle che in economia si chiamano le economie di agglomerazione. Perché si parla di economia della conoscenza, eccetera, ma la conoscenza bisogna produrla. Ma non si produce in maniera anonima, si produce tenendo conto della realtà che il territorio, nelle sue diverse componenti, è in grado di esprimere. Quindi l'idea di base era, all'inizio della stesura del piano strategico, Rimini deve diventare una città creativa e non una città imitativa. In Italia la più parte delle città sono imitative, imitano quello che altri fanno, con aggiustamenti vari e così via. Ed è chiaro che il governo di una città creativa non può essere lo stesso del governo di una città imitativa. Questa è stata la prima fase del piano strategico. Qual è oggi, come ha ricordato la nostra moderatrice, siamo a metà del tragitto e guardando al futuro prossimo, qual è la sfida? La sfida è quella di andare oltre e di passare dalla città creativa, che non può essere però dimenticata, alla città virtuosa. Così viene chiamata oggi. Cosa vuol dire città virtuosa? È una città dove è possibile tornare a praticare quelle virtù civiche che definiscono l'identità di una comunità, aumentano il capitale sociale di tipo bridging e aumentano la coesione sociale. Qui una nota a piedi pagina. Voi sapete che nella lingua latina ci sono due parole che venivano utilizzate per esprimere il concetto di città. Una è urbs, da cui urbe, urbanizzazione, urbanesimo. L'altra è la parola civitas. E voi sapete la differenza. Chi ci ha detto la differenza è stato Cicerone e se ne intendeva. Dice Cicerone la urbs è la città delle pietre, la civitas è la città delle anime. Cicerone, eh? Oltre duemila anni fa. E voi capite il senso della metafora. La urbs è la città delle pietre, cioè dire la città che è organizzata bene, la logistica, la viabilità, tutto ciò che rende confortevole la vita in un luogo fisico. Però non è ancora la città delle anime. Perché la città diventa civitas nel momento in cui il modello della civiltà virtuosa, perché virtuosa vuol dire virtù. E se noi non torniamo a parlare il linguaggio delle virtù, potremmo avere anche delle città bellissime con tanti grattacieli, in senso metaforico si fa per dire, e con ogni capacità organizzativa, ma quella capacità di coesione sociale e soprattutto quella capacità di proiettarsi sul futuro e di reinventarsi continuamente non potrà essere realizzata. Ecco allora qual è adesso la sfida che è di fronte a noi. In qualche modo Rimini è diventata una società, una città creativa. Adesso è inutile che faccia esempi, perché li conoscete forse meglio di me, il fatto della presenza dell'università. E la presenza dell'università che può, deve essere migliorata, il rapporto, ma questi sono dettagli, però ha significato molto e continuerà a significare. La sfida che dobbiamo raccogliere e possibilmente vincere è quella di realizzare la città virtuosa. Voi direte, che cosa osta alla realizzazione di una città virtuosa? La risposta è molto semplice, perché vedete, per fare la URBS ci vogliono anche le risorse finanziarie, ma per la città virtuosa i soldi contano poco, sapete, perché l'esercizio e la pratica delle virtù non è legata alle disponibilità finanziarie. Bisogna avere una particolare disposizione d'animo, che è quella che il filosofo olandese Baruch Spinoza aveva indicato con l'espressione passioni tristi. Nella sua opera fondamentale Spinoza dice quando una comunità di persone viene colpita, quasi aggredita dalle passioni tristi, non c'è niente da fare. E cosa sono le passioni tristi? Non sono le passioni di chi è triste per una ragione possiamo facilmente immaginare dalla malattia ad altra, ma è la tristezza che colpisce attenzione i misoneisti. Misoneismo è una parola greca, è bellissima, dovete dirla. Il misoneista è uno che odia la novità, è uno che odia il nuovo, non che non lo vuole fare, ma lo odia. Il conservatore è uno che invece non vuole sporcarsi le mani perché sta bene con quel che ha. Il misoneista è peggio del conservatore perché non vuole lui e non vuole che altri si mettano all'opera per avviare progetti trasformazionali. Questo è il vero nemico che impedisce ad una città di diventare una società virtuosa. Recentemente, pochi mesi fa, alla fine dell'anno scorso, è uscito un libro di un autore americano piuttosto famoso in America che si chiama Tylon Cohen. Il titolo è rivelatore. Il libro è stato persino tradotto in italiano con il titolo La classe compiacente. Bellissimo. E dice quando il misonesimo prende corpo in una realtà locale? Quando c'è una classe compiacente. E chi è la classe compiacente? Quella formata da quelle persone che interiorizzano e vivono la cultura della rendita. Voi sapete cos'è la rendita? La rendita è il nemico numero uno perché la rendita si mangia il profitto e si mangia il salario. Il salario va ai lavoratori, il profitto va alle imprese, gli imprenditori. Più alta è la quota della rendita, più bassa è la quota del profitto e del salario. Quindi delle famiglie stanno male perché non possono soddisfare in maniera decente i loro bisogni e le imprese se in assenza di profitto non investono e così via. Ecco allora chi è la classe compiacente. La classe di coloro il quale avendo raggiunto un certo livello per ragioni storiche o di altro tipo fa di tutto per impedire e come fa per impedirlo? Ovviamente non con la forza ma diffondendo il misoneismo, quell'atteggiamento di chi dice ma non si può cambiare, non si può innovare, accontentiamoci di quel ecco quelle persone bisogna metterle al bando e bisogna dirglielo in faccia chi mi conosce lo sa che io lo dico anche nella sfera pubblica dico tu hai diritto di avere le idee che vuoi magari contrario alle mie ma non hai diritto di essere misoneista perché tu sei un delinquente recentemente a Bologna in un dibattito pubblico ho dato del delinquente voi sapete cosa vuol dire delinquente delinquente non è una brutta parola non è offensivo infatti se voi lo dite delinquente letteralmente è uno che non fa quello che potrebbe fare e che quindi non facendo quello che potrebbe fare impedisce ad altri di avanzare dico tu non hai il diritto di impedire agli altri di andare tu hai il diritto di rimanere nel punto in cui sei ma non impedire agli altri e così via ecco allora qual è il punto in questione quella la grande sfida e a Rimini lasciate che finisca di rendersi di cultura della rendizione ce n'è tanta lasciate che ve lo dica non sto a darvi i dati statistici però ce n'è troppa ed è questo il vero impedimento che non è solo perché la classe compiacente sa contenta perché se uno dicesse io mi accontento di quel che ho benissimo sei libero ma il guaio è come lo ripeto per la seconda volta è che questi impediscono ad altri di fare e questo non può essere tollerato perché questo è il massimo dell'egoismo le persone egoiste sono veramente un pericolo pubblico perché ripeto non consentono di ottenere di sviluppare il potenziale di vita che una comunità di persone è in grado di esprimere ecco allora qual è adesso di fronte a noi la grande sfida voi direte beh come si fa a combattere questa cultura della rendita avete notato io ho detto cultura avrei potuto dire anche la prassi della rendita ma è più importante la cultura è ovvio che c'è l'antidoto come ogni malattia non proprio tutte ma questa ha sicuramente un antidoto e qual è l'antidoto è quello di recuperare una distinzione tra sfera pubblica e sfera politica che noi continuiamo per la nostra sottocultura di tipo politico a confondere pensando che la sfera pubblica e la sfera politica siano la stessa cosa no 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 la sfera pubblica è il luogo dove si confrontano come è stato detto in apertura con un approccio di tipo dialogico le diverse posizioni che si confrontano magari dialettizzando a volte le diverse visioni del mondo la sfera politica è la sfera invece della decisione quindi noi dobbiamo tornare a distinguere senza tenerli separati i luoghi delle opinioni dai luoghi delle decisioni ecco quello che per la lettura che faccio io io ho lasciato Rimini tanto tempo fa all'età di 19 anni quando mi iscrissi all'università a Milano però di tanto in tanto seguo ho informazioni vi posso dire che ai miei tempi la sfera pubblica nel senso che ho definito intesa come luogo del confronto a volte anche aspro ma sempre corretto e leale era molto più ampia di quella di perché oggi a Rimini non c'è più confronto e io vi sfido ditemi voi ecco un'occasione come quella di stasera va in controtendenza ed è per questo che io in apertura mi sono congratulato con voi perché queste sono occasioni nelle quali ci si confronta a volte ci si scontra e questo è l'unico modo per sconfiggere quella cultura della rendita che impedisce a Rimini di ottenere quello che potrebbe ottenere mi taccio perché penso ci siano altre domande e l'altra domanda che forse se mi viene fatta darò risposta è allora concretamente questo che cosa comporta sulla base ma penso che sia opportuno a questo punto ascoltare la parola del sindaco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti